Cosa dire del Cardinale Penn che dice di servire Gesù, Dio, e poi viene indagato dai giudici australiani per aver coperto oltre 200 preti che per decenni hanno violentato centinaia di bambini? E' premiato dal Papa che lo nomina a suo braccio destro in Vaticano. Mentre la parola disse all'inizio del suo pontificato che avrebbe combattuto la pedofilia nella chiesa. Questi sono fatti, non le solite parole dietro le quali si nascondono i furbi, quelle parole che continuano a illudere tante famiglie, mentre poi abusano sessualmente dei loro figli. Uccidendogli l'anima.